Benvenute e benvenuti alla mia prima video-lezione di storia Cerco di ricollegarmi a quello che abbiamo fatto fino ad adesso Di essere quanto più lineare possibile nel corso di questa lezione Di aiutarvi, come dire, di essere a vostra disposizione Io inizierei subito, perché siamo drasticamente indietro Riallacciandomi al discorso sulla prima guerra mondiale Noi ci siamo lasciati con, come dire, una guerra che abbiamo studiato Abbiamo approfondito, abbiamo visto gli esiti Abbiamo visto le ragioni per cui scoppia Abbiamo detto come si conclude, quali sono gli effetti Oggi ci, in qualche modo, approfondiremo il primo dopoguerra in Europa Io partirei da un dato Oggi voglio approfondire gli effetti materiali Nella fine della guerra nel nostro continente Però urge prima, perché siamo esseri umani Partire dal dato umano, appunto La prima guerra mondiale con la sua enorme carica di morte Con i suoi nuovi strumenti bellici Con le sue nuove tecnologie volte alla distruzione Causa, pensate bene, 13 milioni di vittime Di cui 5 milioni sono i militari Circa 4 sono i militari dispersi E il resto si conta fra la popolazione civile È un esito devastante Fino a prima del grandissimo disastro della seconda guerra mondiale È probabilmente il più grande conflitto Per numero di morti che c'è stato in Europa Almeno quelli che conosciamo Ovviamente si porta dietro delle cause di distruzione materiale Che sono enormi Tutti gli stati, in questa folle corsa nazionalistica Di primato, di voler primeggiare sull'altro Avevano speso oltre le proprie risorse Per questo conflitto E il dopoguerra Rispose a questo sperpero di soldi Oltre misura da parte degli stati L'economia con una conseguenza quasi dovuta Che è quella di un'enorme inflazione Ora voi sapete bene, perché ne abbiamo già parlato Che una forte inflazione Fa aumentare immediatamente il costo della vita In più, molte fabbriche erano state costrette a chiudere O a licenziare dipendenti Questo vuol dire che Oltre a crescere l'inflazione e il costo della vita Aumentarono in tutta Europa il numero smisurato dei disoccupati Ma aumentò anche il malcontento Perché moltissimi operai, contadini Che erano partiti al fronte Erano anche partiti con la promessa Che una volta tornati avrebbero avuto un lavoro Ma quel lavoro non c'era, perché nel frattempo In Europa le fabbriche o erano state convertite In industrie belliche Oppure avevano fallito, chiuso i battenti Quindi l'Europa si ritrova 13 milioni di morti Città distrutte, devastate Un corpo sociale del tutto disarticolato Persone che tornano dal fronte Dopo aver combattuto uno, due, tre Addirittura qualcuno quattro anni Per intero tutto il percorso della guerra Torna e trova A una situazione devastante In cui le fabbriche sono chiuse I contadini continuano a fare La vita tremenda che facevano prima E in più Appunto c'è questo tasso di disoccupazione Alle stelle Ok? In seguito alla prima guerra mondiale Nel 1919 viene istituita A seguito di lunghe discussioni Fra gli stati che avevano preso parte Il conflitto La società delle nazioni La società delle nazioni è un organismo Che poi nelle sue evoluzioni Nelle sue articolazioni successive Diventerà qualcosa di più serio Di più partecipato Democratico eccetera Ma che ancora ora è allo stato embrionale E soprattutto nasce già mutilata Debole Perché questa società delle nazioni In qualche modo Non escludeva necessariamente alcuni paesi La Germania per esempio Era stata del tutto esclusa Dalla società delle nazioni Poiché A detta dei vincitori Avendo causato la guerra Non poteva sedere al tavolo delle trattative Ma a questo paese Si aggiunse Fra gli esclusi Si aggiunse anche la Russia rivoluzionaria Nel 1917 abbiamo visto L'abbiamo spiegato Nella Russia Ancora Arretrata Contadina Eccetera eccetera I soviet Hanno preso il potere Guidati da Un illustre Rivoluzionario Che si chiama Vladimir Ilich Detto Lenin Prendono il potere E hanno una serie di problemi interni Che abbiamo già Discusso Affrontato Quando abbiamo spiegato La rivoluzione russa Fatto sta Che al tavolo delle Nazioni Unite La Russia Non ci sta Perché c'è un veto Su Il primo paese del mondo Ad essere guidato Da Un governo Socialista Ok Anche gli USA Di Harding Vengono esclusi Dal primo Dal primo incontro Cioè Dalla prima formazione Di questo organismo Sovranazionale Su questo bisogna fare un inciso Che forse ho già fatto altre volte Harding è il presidente degli Stati Uniti È un repubblicano E nella storia europea Barra americana Nella storia diplomatica Fra questi due paesi C'è sempre una differenza Molto netta Del rapporto Che i presidenti Repubblicani Hanno con l'Europa E i rapporti Che invece hanno I presidenti democratici C'è più conciliazione Da parte dei presidenti democratici Ai processi che avvengono in Europa Rispetto a quelli Dei Presidenti Repubblicani Harding Da buon repubblicano Quindi Ha questa visione Isolazionista In qualche modo Degli Stati Uniti Quindi Torniamo a parlare Del nostro Della nostra Società delle Nazioni Non ne fa parte la Germania Non ne fa parte la Russia Non ne fanno parte gli Stati Uniti I trattati Della fine della guerra Il trattato più importante Della fine della guerra È il trattato di Versailles Col trattato di Versailles I vincitori impongono Ai tedeschi Condizioni durissime La Germania Ha causato la guerra Questo è quello che dicono I vincitori E hanno ragione Nel dirlo E la Germania Deve assolutamente Pagare Per Come dire Aver scatenato Un conflitto così letale Così drammatico La prima cosa Che viene chiesta La Germania È di cedere Quei due famosi territori Di cui parliamo sempre Francesi Che sono L'Alsazia e la Lorena Alla Francia Poi Gli viene chiesto Di abbandonare I territori polacchi Che erano finiti Sotto il suo dominio Successivamente Danzica La città portuale Che vi ho detto Di tenere sempre a mente Perché poi Ritornerà Quando parleremo La seconda guerra mondiale Viene dichiarata Città libera Ok Tutte le colonie Tedesche Vengono spartite Tra Inghilterra Francia E Giappone Il governo tedesco Deve risarcire Tutti i danni Provocati dal conflitto E ridurre al minimo Le forze armate Ora voi vi ricorderete Sicuramente Che uno dei campanelli D'allarme Che avevano preoccupato Le nazioni E gli stati europei Era proprio Questo desiderio Di armarsi Che aveva avuto La Germania Negli anni 10 Cioè un paese Che non aveva Un esercito efficiente Che era nato da poco Eccetera eccetera A un certo punto Si colloca Fra I paesi Più bellicosi Cioè comincia a produrre armi Munizioni Forma un esercito Ecco Fra le condizioni Dure Che gli vengono imposte C'è anche quello Di ridurre al minimo Le forze armate Queste condizioni Dure Imposte Alla Germania Vengono imposte Anche Al Eifu Impero Ostrungarico Aprirei una piccola Parentesi Giusto per ricordarvi Cos'era l'impero Ostrungarico L'impero Ostrungarico Era Come dire L'abbiamo definito Uno stato Multinazionale Abbiamo detto Che All'interno Dell'impero Ostrungarico Convivevano Popoli diversi Si parlavano Diverse lingue Le religioni Che si professavano Erano diverse Fra loro E occupavano Spazio geografico Enorme Ok Le lingue ufficiali Erano soltanto Il tedesco Il lungarese Ma all'interno Si parlava L'italiano Il croato Il rumeno Il polacco Il cieco Ok Tantissime lingue Tutte le Quasi La maggior parte Delle lingue Di quell'area europea Ok All'impero Ostrungarico Vengono quindi Imposte Misure dure Altrettanto Quanto quelle Della Germania E noi sappiamo E noi sappiamo Anche che La monarchia Asburgica È crollata Del tutto Definitivamente Quindi La società E le nazioni Riconosce Il diritto Alle diverse Nazionalità Che facevano parte L'impero Ostrungarico Di diventare Veri e propri Stati Nazione Ok In questo modo Nascono Dalla disgregazione L'impero Ostrungarico L'Austria La Cieco-Slovacchia L'Ungheria La Slovenia Ok Croazia Bosna Erzegovina Vanno a ingrandire Quello spazio Che diventerà La Serbia E assieme a queste Costituiranno Il regno Di Jugoslavia Al quale poi Si uniranno Macedonia E Montenegro Ma vediamo Gli altri effetti Della disgregazione Dell'impero Ostrungarico Che riguardano Il territorio italiano Trentino Tirolo Trieste L'Istria Passano All'Italia D'altronde All'Italia